a salute e medicina i nostri graditi ospiti dottor samueli cristiano samueli del medico di medicina generale benvenuto dottore buonasera dottor angelo rioda specialista in ortopedia buonasera a tutti benvenuti oggi parliamo di cervicalgia che volgarmente detta dolore al collo ecco cominciamo con lei come al solito dottor samueli come nasce quindi quando arrivano i pazienti arrivano già evidentemente con delle sintomatologie chiare il dolore al collo è una patologia molto diffusa diciamo che dobbiamo per cercare di capire di cosa si tratta dobbiamo prima di tutto ragionare da un punto di vista proprio anatomico la colonna cervicale il racchide cervicale è formato appunto da delle vertebre e fra una vertebra e l'altra ci sono dei dischi che servono per attutire diciamo tutto quello che riguarda il peso della testa eccetera allora e questo è da un punto di vista anatomico una delle problematiche più importanti per quanto riguarda il dolore cervicale è chiaramente l'artrosi cervicale l'artrosi cervicale è come tutte le artrosi un'alterazione delle strutture ossee e delle strutture cartilagine che in questo caso sono in mezzo fra le vertebre e sono appunto quelle strutture composte da un nucleo da un disco e questo disco è composto da un nucleo polposo e un nucleo fibroso che circonda il nucleo polposo allora il punto è che quando c'è la degenerazione di queste strutture cartilagine si va a col tempo a creare uno schiacciamento fra una vertebra e l'altra vengono vengono diciamo usurandosi le strutture e il disco intervertebrale vengono a crearsi degli schiacciamenti questi schiacciamenti possono col tempo evolvere in varie situazioni una delle situazioni più più importanti è per esempio l'ernia cervicale l'ernia cervicale non è altro che una situazione in cui il nucleo centrale di cui parlavamo prima che è questo disco fra una vertebra e l'altra questo nucleo centrale viene come dire espulso dall'anus e quindi va verso l'esterno delle vertebre e a questo punto una delle cose che succede è quella che per cui questo questa ernia cervicale può andare a comprimere i nervi che sono che passano diciamo dietro nella porzione posteriore della vertebra cervicale a questo punto quindi noi potremmo avere una situazione in cui ci sia una compressione quindi una cervicobrachialgia che può essere un dolore localizzato a livello del collo oppure addirittura evolvere fino ad avere a dare un problema di tipo neurologico neuropatico per cui addirittura si può siccome il nervo brachiale che esce dal collo arriva fino alla mano si può addirittura ad avere per esempio una perdita di sensibilità della mano un dolore della mano quindi una situazione che non riguarda più solo il collo è chiaro poi che con l'evoluzione dell'artrosi cervicale quello che poi fra l'altro io spesso anche nel mio studio vedo quando mi portano i pazienti le radiografie è spesso la presenza di una rettilinealizzazione una parola un po complessa quindi un momento in cui la colonna cervicale che invece di fare una curvatura lordosi come si dice che è importante perché la curvatura tutta tutta il nostro orachide ha varie curvature lordosi e cifosi in questo caso a livello del collo noi abbiamo una lordosi che è proprio una curvatura per cui la testa va a pesare meno sulla colonna cervicale in questa maniera ed è quindi fisiologicamente fatto così proprio per cercare di creare questo discorso cosa succede succede che con l'artrosi andandosi a schiacciare i dischi intervertebrali c'è con l'andale del tempo una perdita di questa curvatura e diventa rettilinea la l'irachide cervicale questo fra l'altro crea due problemi il primo è che la testa il peso della testa va direttamente a pesare tutto sulla sul racchide cervicale e non è quindi più attutito e quindi fra l'altro peggiora ulteriormente lo schiacciamento delle vertebre dall'altra siccome a lato della colonna cervicale ci sono dei muscoli questi muscoli quando dovete immaginare che quando c'è una curvatura questi muscoli hanno una certa lunghezza è chiaro che se dalla curvatura noi portiamo a rettilinealizzarsi la colonna questi muscoli vengono tirati di più e di conseguenza ecco che uno dei dolori appunto dell'artrosi cervicale è proprio una cervicalgia quindi un dolore muscolare del collo un'altra cosa che è importante è che nell'artrosi cervicale io spesso proprio nel mio studio vedo persone che hanno per esempio vertigini ed è un altro dato importante chiaro che le vertigini per se stesse possono avere tante cause anche neurologiche ovviamente e importanti però è chiaro che una delle sintomatologie più importanti dell'artrosi cervicale oltre dolore e anche alla difficoltà per esempio di muovere il collo eccetera sono proprio le vertigini. Ecco perché poi dottor Iodo ovviamente stiamo parlando di una patologia complessa come l'artrosi cervicale e non diciamo come dire quando uno ammaglia il collo un po' che si sente il collo pesante quello magari può essere legato anche a fattori di postura ovviamente quindi ci vuole un po' spiegare invece questa forma più leggera ecco di... L'artrosi è una delle forme più avanzate di cause di cervicalgia all'inizio si possono avere delle forme un po' più leggere lo stesso stress o traumi microtraumatismi possono provocare delle contratture muscolari senza variazioni anatomiche a livello dell'arachide cervicale andando avanti con l'età e soprattutto con le forme con traumatismi o anche con la genetica si possono avere delle trasformazioni proprio anatomiche. Come ha detto bene il dottor Samueli ci possono essere sia forme degenerative del disco come l'ernia eccetera come anche forme degenerative proprio della vertebra e perciò si formano delle alterazioni di forma della vertebra stessa con possibili complicanze ad esempio la formazione di osteofiti che sono degli spiccoli ossei che possono loro stessi andare a comprimere a toccare le radici nervose e perciò nelle fasi iniziali avere un dolore cervicale cioè una contrattura come ha detto bene il dottor Samueli nelle fasi più avanzate addirittura delle irradiazioni neurologiche agli arti che sono diciamo uno step più avanzato e più pericoloso all'inizio sono sensazioni solo irritative cioè del dolore che si irradia proprio all'arto nelle fasi più avanzate possono comparire dei deficit e perciò forme più da tenere sott'occhio ecco e naturalmente le forme di cervicalgia possono essere molto variabili e possono cambiare anche da persona a persona ecco da situazione a situazione perciò compito del medico di medicina generale compito dell'ortopedico è di valutare proprio quando compaiono quelle quelli segni neurologici che devono preoccupare maggiormente ecco ecco dottore riota quali sono le cause in genere c'è genetica ambiente tipo di lavoro quali sono le motivazioni le cause sono diverse naturalmente la genetica ha una componente importante ci sono persone che hanno un'artrosi diffusa ci sono famiglie che hanno più facilità ad esempio casi di ernia però anche la componente diciamo lavorativa sportiva traumatica può essere importante ad esempio il colpo di frusta è una causa frequente di cervicalgia i lavori usuranti ad esempio lavori che prevedono microtraumi o traumi a racchide come non so al muratore chi usa il mattello pneumatico chi sta in posizioni con il capo flesso naturalmente ha più facilità avere queste queste situazioni ma anche lavori leggeri che però hanno una posizione scorretta al lavoro possono causare delle cervicalgie un lavoro d'ufficio non è esente dalla cervicalgia ad esempio posizioni col capo flesso oppure lo schermo del computer basso e non altezza d'occhi e la posizione delle spalle possono influire a lungo andare su una degenerazione dell'arachide cervicale ecco poi ovviamente mettiamoci anche un po di diciamo della vita sedentaria che spesso siamo costretti a fare sì vita sedentaria non diciamo non dare stimoli comunque la colonna soprattutto in allungamento non sto parlando di stimoli in compressione che possono aggravare questa situazione ma certi sport sono adatti maggiormente ad esempio il nuoto stretching pilates eccetera altri certe attività sportive invece possono dare dei problemi ad esempio non so rugby salti la corsa eccetera producono una come ha detto dottor samuel uno stimolo maggiore sui dischi e perciò un'usura maggiore per specificare la parte centrale del disco che è un ammortizzatore vero e proprio è formato dal nucleo polposo che è una maggior quantità d'acqua il 90 per cento è acqua intorno a un anulus che proprio ha il compito di tenere questo questa parte centrale in pressione quando la parte esterna in seguito ai traumatismi si rovina si rompe dovuto anche a un'età magari più avanzata eccetera la parte centrale esce forma la cosiddetta ernia ecco senta dottor samuel vediamo i sintomi cioè quando il paziente arriva da lei la prima cosa che dice sono mesi che ho in genere quando arrivano arrivano subito a lamentarsi fra virgolette da lei beh sui dolori cervicali sì diciamo che spesso arrivano abbastanza velocemente perché diciamo che allora dobbiamo distinguere sulle due cose allora da una parte ci sono soprattutto i giovani e vengono proprio per le cervicalgie spesso appunto come diceva il dottor Rioda vengono sportivi ma non solo quello che vedo molto più spesso sono appunto chi fa lavori sedentari con posture anomale del collo quindi magari davanti al computer con una posizione che io vedo lo si vede spesso che vedi proprio con il collo in avanti proprio come dicevamo prima fanno in maniera di allungare e di eliminare la curvatura della colonna cervicale e questa cosa qua porta appunto a un dolore cervicale e anche a una contrattura muscolare in questa maniera è chiaro che a questo punto le persone vengono abbastanza velocemente e sono più direi più giovani sì ma certo dagli studenti fino ai cinquantenni ecco diciamo che è un po' questo dall'altra invece diciamo andando più avanti con l'età e anche qui chiaramente poi vengono perché prendono ovviamente paura vedo più gente che ha sicuramente un dolore cervicale però con l'artrosi cervicale avanzata da una parte si sono un po' abituati dall'altra già prendono i fans e quindi prendono gli antidolorifici quindi hanno un po' meno questo dolore e questa cervicalgia quello che vedo spesso invece proprio sono le vertigini cioè il problema vertiginoso la sindrome vertiginosa è chiaramente una sindrome importante che allarma la persona ci sono persone che mi dicono che improvvisamente mentre sono a letto hanno girato il collo e gli comincia a girare tutta la stanza e questo chiaramente è una situazione che allarma la persona e quindi bisogna intervenire con certi farmaci una cosa che poi ecco nella mia pratica clinica anche io vedo spesso e che è interessante proprio per quanto riguarda le vertigini sono proprio le vertigini posizionali che sono legate a certe posizioni del collo io spesso ho visto per esempio pazienti che mi dicevano che se muovivano il collo non avevano nessun disturbo alzavano il collo magari per prendere una cosa sull'armadio e gli girava tutto e questa è un'altra cosa importante in questo quadro proprio perché come dicevamo e diceva il dottor Ioda c'è un'evoluzione della malattia nel tempo dell'artrogia cervicale in questo caso e quindi un po' alla volta le varie farcette articolari si vanno ad alterare e di conseguenza possiamo avere sempre di più queste problematiche di cui fra l'altro poi abbiamo ancora qualche difficoltà a capire quella che si chiama la fisiopatologia quindi l'evoluzione della malattia e il perché abbiamo questo tipo di situazioni. Fra l'altro poi ecco quello che volevo anche dire è che per quanto riguarda appunto i dolori da cervicalgia o da artrosi cervicale che come dicevamo è una delle cause principali di cervicalgia abbiamo anche altre sintomatologie per esempio abbiamo i disturbi alla vista a volte proprio sempre da un punto di vista posturale ci può essere una persona che ha un problema di artrogia cervicale soprattutto adesso che si usa molto lo smartphone e il telefonino e si tiene la testa molto giù ecco che per esempio nel momento in cui si alta la testa invece di avere la vertigine come dicevamo prima si può addirittura avere un deficit momentaneo di vista e quindi questo rientra anche questo in un quadro di artrosi cervicale e poi giustamente dicevamo oltre rigidità c'è un problema grosso che se c'è ed è poi qui chiaramente che il medico di medicina generale deve comunque delegare ovviamente lo specialista se c'è una artrosi cervicale con delle ernie cervicali e allora là il problema diventa come diciamo di tipo neuropatico e neurologico con anche gravi cose ovviamente gravi evoluzioni e quindi chiaramente allora lì sì che si va verso l'evoluzione chirurgica ecco io mi permetto di questo momento un pochettino appunto per interloquire con lo specialista e chiedere anche effettivamente quanto e quando intervenire da un punto di vista chirurgico e qual è anche la motivazione che può spingere proprio a intervenire chirurgicamente sì chirurgicamente si interviene nei casi estremi quando compaiono disturbi neurologici molto importanti e quando il dolore persiste per lungo periodo sono interventi delicati naturalmente ci sono vari accessi chirurgici l'anteriore e posteriore diciamo che non è il dolore classico l'indicazione a intervenire e quando dall'esame clinico si vede una situazione evolutiva con deficit con mancanza di forza dell'arto superiore che non risponde alle terapie classiche che sono nell'immediato l'antifiammatorio le terapie eccetera e la cura principale è la cura cortisonica ecco che allo scopo di diciamo diminuire l'edema della radice nervosa coinvolta naturalmente non è curativa dell'ernia però può migliorare notevolmente il quadro clinico quando invece l'elettromiogramma la risonanza mostra una grossa compressione e si prevede che questo possa causare un danno non temporaneo un'imitazione ma un danno definitivo naturalmente la chirurgia trova spazio ecco sono interventi diciamo non frequenti molto selezionati e bisogna diciamo decidere caso per caso non c'è una cosa standardizzata e perciò la sensibilità dello specialista l'evoluzione del quadro clinico oltre gli esami strumentali indirizza sulla scelta terapeutica la maggior parte dei casi risponde comunque ai trattamenti che normalmente usiamo certo il dolore soprattutto nelle forme artrosi che si ripresenta periodicamente soprattutto nei periodi diciamo freddi invernali o in seguito a sforzi eccetera però ecco ritengo che l'esame clinico indirizzi molto sulla decisione quindi si interviene raramente diciamo diciamo sono interventi comunque complessi complessi naturalmente va ponderato tutto per intervenire certo quando si vede la persona che comincia avere dei defici importanti il dolore importante eccetera aspettare troppo può anche causare un danno permanente ecco sento dottor samueli ma quando una persona viene da lei vi consiglia anche di fare della ginnastica posturale perché adesso vedo che diciamo abbastanza di modo fare ginnastica di gruppo allora allora è chiaro che nel momento in cui una persona ha una cervicalgia o anche comunque una vertigine che si può ipotizzare con cervicalgia quindi si può ipotizzare possa essere una forma cervicale ovviamente io come medico medicina generale il primo passaggio che faccio è ovviamente una radiografia dell'archide cervicale per vedere un attimino come siamo messi e se ci sono sintomi che possono essere correlati a una forma artrosica allora di solito quello che io vedo è sì spesso vedo una forma artrosica e quindi come diceva il dottor Ioda i vecchi osteofitici oppure anche degli schiacciamenti vertebrali però spesso come dicevo anche prima vedo proprio la perdita della curvatura del collo e questo è la prima cosa che io dico appunto al paziente è proprio che è un problema prima di tutto posturale quindi chiaramente quello che viene consigliato è di fare ginnastica posturale magari una palestra piuttosto che per esempio andare a fare nuoto che aiuta proprio anche a recuperare anche questo tipo di problematica oltre quindi non solo per quanto riguarda la parte anatomica del collo ma anche proprio per quanto riguarda i muscoli stessi del collo quindi sicuramente una delle chiavi fondamentali per quella che è la cervicalgia è proprio la ginnastica posturale che poi fra l'altro uno può anche impararla magari farsela anche a proprio domicilio non ci vuole tanto che fra l'altro sarebbe anche consigliata a fare fin da giovani addirittura ancora prima di avere problemi di cervicalgia o di artrosi cervicali proprio perché mantenere la muscolatura e le ossa del collo e dell'arachide cervicale in buon tono è una cosa ottima che poi nel tempo può dare dei benefici importanti aggiungo anche che oltre a usare i fans come dicevo prima nei casi di vertigini di sindrome vertiginose di chiara diciamo natura artrosica dove anche già col fans fra l'altro paradossalmente le vertigini diminuiscono proprio perché come dicevamo prima l'artrosi è una forma anche infiammatoria però può rimanere sempre la vertigine allora lì si utilizzano anche dei farmaci sintomatici della vertigine che aiutano la persona anche a superare quel momento fastidioso perché a volte con la vertigine poi ci può essere il vomito ci sono altre situazioni che possono essere molto fastidiose ecco naturalmente il motivo delle vertigini nasce dal fatto che comunque i centri sensoriali sono collegati ai muscoli alla colonna vertebrale quindi con come funziona questo qua ci sono ancora diciamo dei dubbi sicuramente una di queste situazioni è quella che che dici tu perché è chiaro che diceva anche dottor Ioda sul collo sul collo il collo passano vasi vasi venosi vasi arteriosi nervi quindi c'è tutta passa il midollo spinale quindi c'è sicuramente un insieme di situazioni che nel momento in cui la colonna viene tirata chiamiamola così vengono tirati anche questi nervi questi vasi eccetera e quindi sicuramente una componente vertiginosa neurologica può essere questa però anche su questo si sta ancora un pochettino cercando di capire fino in fondo dove può essere il problema anche per agire proprio specificatamente perché come dicevo prima sull'artrosi cervicale sulla vertigine artrosi cervicale si usano i sintomatici non tanto i curativi che in questo momento sono più i fans o i cortisonici come diceva dottor Ioda quindi stiamo ancora studiando molto è di questa cosa qua benissimo quindi abbiamo detto che come come siamo strumentali radiografia dottor Ioda qualcos'altro ci sono allora la radiografia giustamente il primo passo ecco già da delle informazioni quando compaiono dei disturbi un po più importanti ormai l'esame principale è la risonanza magnetica permette di vedere in maniera più completa la presenza di un'ernia permette di valutare anche l'ampiezza del canale spinale per vedere se ci sono delle compressioni dei ristringimenti dovuti all'artrosi all'ernia stessa permette di vedere se c'è un edema delle ossa delle volte c'è proprio un edema infiammatorio diciamo un esame più completo ecco naturalmente è un esame di il secondo step ecco un altro esame importantissimo è l'elettromiogramma è un esame che permette di valutare la funzionalità dei nervi e dà delle informazioni molto importanti sia dal punto di vista motorio sia dal punto di vista sensitivo perché con la visita possiamo valutare principalmente il fatto motorio la parte sensitiva non ci sono degli test specifici cioè lo racconta il paziente queste questi esami per questo esame l'elettromiogramma permette di valutare in maniera più completa come funziona il nervo come conduce al muscolo e perciò è un esame importante anche questi in seconda fascia ecco poi la cella tac ci sono altri esami che comunque principalmente la radiografia la risonanza l'elettromiogramma studia in maniera completa il problema cervicale quindi che tipo di prevenzione possiamo proporre alle persone che hanno questo tipo di patologia si è importantissima la prevenzione allora come diceva giustamente dottor samueli fin da piccoli insegnare come si usa il collo le posizioni adesso fin da piccoli si usa il computer si usa il telefonino si usano i giochi eccetera e mi accorgo vedendo anche i miei figli che le posizioni non sono corrette ecco poi anche l'attività sportiva deve essere adatta naturalmente mettiamo in conto che certi sport possono provocare in età più avanzata della degenerazione e la prevenzione anche a scuola è fondamentale perciò istruire anche gli insegnanti eccetera secondo me è una cosa che è importantissima e poi sul mondo del lavoro in età più avanzata le posture nei lavori sedentari come dicevo prima la posizione la posizione degli schermi eccetera e la prevenzione anche invece nei lavori più pesanti ecco si sa che certe categorie hanno più facilità avere queste degenerazioni e poi i tipi di sport giustamente la ginastica posturale la ginastica in acqua lo stretching eccetera sono cose che possono rallentare un'evoluzione artrosica ecco non possiamo purtroppo fermare matematicamente la cosa possiamo però agire sul sintomo ma anche sull'evoluzione rallentandola anche perché poi dottor Samuele effettivamente questo tipo di patologia ha un impatto importante sociale perché uno che ne va a lavorare dall'oggi al domani si trova la stanza da letto che gira sicuramente sì dobbiamo tener conto di un'ulteriore cosa in tutto questo discorso che la cervicalgia e come dicevamo l'artrosi cervicale che è all'interno come primo movens di tutto il discorso in realtà comporta un altro problema che è il mal di testa e che è una delle cause principali di assenza dal lavoro perché è chiaro che il mal di collo e quindi la tensione muscolare dei muscoli cervicali si collega con quella che invece è il muscolo proprio che coinvolge e copre la calotta cranica e quindi si può avere più che un'emicrania che è un'altra cosa proprio una cefalea muscolotensiva quindi proprio una mal di testa legato alla contrattura muscolare cervicale che poi viene passata anche alla muscolatura proprio della testa ed ecco che a questo punto proprio la risposta è sì purtroppo la cervicalgia con la cefalea che spesso viene collegata è una delle cause più che vedo più spesso proprio per come per fare i certificati di malattia eccetera quindi è una delle cause importanti proprio di assenza dal lavoro e questo fra l'altro mi ricollevo quello che diceva dottor Ioda cioè sui posti di lavoro sarebbe bene anche recuperare proprio la postura eccetera perché così paradossalmente si diminuisce la possibilità di malattia che insomma da una parte va bene per il datore di lavoro dall'altra va bene anche per il lavoratore non essere ammalato proprio perché è fastidioso essere ammalato esatto sicuramente va bene abbastanza strada è stata fatta però sicuramente è una cosa ancora da continuare a fare bene ringraziamo i nostri dottori dottor cristiano samuele e samuele medico di medicina generale il dottor angelo rioda specialista in ortopedia abbiamo parlato in questo caso di cervicalgia dolore al collo banalmente e abbiamo chiamato dolore al collo però più propriamente artrosi cervicale salute medicina